Devo ringraziare innanzitutto, come sempre, gli amici dell'Aquila. Se non ci fossero stati gli amici dell'Aquila, io lo dico sempre, a volte sul Monete si piccano per questa cosa. Giustamente me si dice, mi cazzo, non volevo usare la parola, però insomma, si dispiacciono di questa cosa perché l'unica cosa vera è che se non ci fossero stati gli amici dell'Aquila probabilmente in tutti questi anni questa iniziativa che è entrata poi nel cuore di Dio, non ci sarebbe stata. Se non ci fosse stato Padre Guilini prima di tutti, che questa sera non c'è, ma c'è nello spirito, continuare ad andare avanti con questa iniziativa è perché riteniamo che questo luogo l'hanno tenuta accesa tutto l'anno e quest'anno hanno voluto portarla qui. Questa fiaccola oggi rappresenta tante cose che ogni anno si buona. Bene, fatto giorni che cercano questa... Prego. Alfredo, controlla questi. Volemico. Grazie. Questa è la pietra del Diablito. Questa è la pietra del Diablito. Grazie. 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 ah io facevo molto un po' piccola un po' piccola un po' piccola chiediglielo è lui è lui il papà di Thor chiediglielo raga se io prendo i biglietti prendi questa accendi qua ci siamo ecco di accoglienza come dicevo come dicevo anche su all'eremo a tutti quelli che hanno che hanno partecipato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti